Si è ricevuto problemi di connessione sul gioco Warhammer 40.000 Space Marine 2 oppure problemi di disconnessione dai server di Space Marine 2, quindi in questo caso è possibile andare direttamente sulla nostra connessione di rete e internet, tasto destro su impostazione di rete e internet, andiamo così sulla nostra rete impostazione di rete avanzata. Ovviamente io per non avere sempre problemi uso un cavo ethernet da 1 gigabit a seconda che è veramente ottimo, avendo anche una fibra ultra in casa non ho problemi di disconnessione dei server. Clicco così sulla mia rete, vado su altre opzioni, scheda e vado su modifica, vado così su protocollo internet versione 4 tcp bv4, io ovviamente ottengo sempre un indirizzo server dns automaticamente oppure puoi usare i diritti seguenti, i diritti server dns, che ce ne sono veramente parecchi online. E ovviamente vi posso consigliare il server di cloudflare 1.1.1.1, stessa cosa anche qua, però al centro ci metti i zeri e fai ok. Se non dovesse funzionare, torniamo un attimo indietro, impostazione di rete avanzate, scendi fino a giù fino a trovare il ripristino della rete. Il pc verrà riavviato, facciamo il ripristino della rete così, fai il ripristino, rimetti di nuovo le credenziali della password sulla tua connessione e provi così a connetterti alla rete, ai server di spaceman 2 e vedere se non hai più quei problemi di disconnessione. Quindi fai il ripristino e riavvia il computer. Se non dovesse funzionare, andiamo direttamente sul tasto destro su start, vai direttamente su gestione dispositivi, assicurati di aggiornare così il driver della tua scheda di rete oppure cavo ethernet. Ovviamente questa è la scheda di rete e questo qua è il cavo ethernet che uso io sulla mia scheda madre. Tasto destro sopra, aggiorna i driver. Cerca i driver nel computer, scegli da un elenco di driver disponibili. Ce ne sono veramente tantissimi, controllo ethernet realtech, faccio avanti e installo così il driver del mio dispositivo. Stessa cosa anche con la scheda di rete. Ed eccola qua. Oppure quella della tip link technologies. Faccio avanti, scarico, installo il mio driver per il mio dispositivo. Chiudo qua. Se non dovesse bastare, possiamo direttamente svuotare le cache della nostra rete, facendo di nuovo un altro ripristino. Andiamo sul cmd. Prompt dei comandi. Esegui come amministratore. Facciamo sì. Ed eccolo qua. In descrizione ti ho lasciato così. Comandi da inserire. Inserisci il primo. Ti disconnetterai dalla rete. Quindi dovrai aggiungere il secondo per riconnetterti. E fai invio. Aggiungi il secondo. E aggiungi l'ip.config.flush.dns. Cache del resolver.dns svuotata. E basta. E poi chiudere il cmd. Per altri problemi ancora puoi commentare sotto al video. Usa sempre questi metodi su tutti i giochi. Quindi grazie a tutti per questa visione. E noi ragazzi ci vediamo ad un prossimo tutorial. Ciao. Ciao. Ciao.